E' un vero Walt Disney? Solo se ha la garanzia di autenticità e qualità dell'ologramma argentato ed il marchio Univideo presenti sulla confezione. Da Disney Video un mondo magico che sarà tuo da custodire per sempre. Un'altra meravigliosa storia e con tanti nuovi fantastici amici me Il Mondo Incantato di Belle esclusivamente in videocassetta. Disney Video vi invita a scoprire la magia il divertimento e le nuovissime musiche di un nuovo straordinario lungometraggio Il Mondo Incantato di Belle presto in videocassetta. Siamo una grande società, milioni di parti in movimento. Ciao, ciao, come va? Lavoriamo molto duramente per garantire che queste parti siano un mezzo per raggiungere un fine remunerativo per tutti noi. Felice di vedermi? Dai, avvicinati al computer. Guardami. Sei un super papà. Mussano la porta. Lo vedi anche tu? Scusate tutti da lì! Ehi! Mayday, Mayday! Qui è la di Puotra Horizon! Che succede? Non lo so, amore. È ora di andare. Ti porto via. Mia moglie si chiama Venisa. Non darvi questa responsabilità. La figlia, Sidney. Non dipende da me. E io la rivedrò, è chiaro? Non voglio morire. Fiedati di me. La gente vede i cavalieri come dei nobili Robin Hood. Ma io credo che il loro primo atto sia stato solo il preludio a un trucco ancora più grande. È bello essere tornati. Sono contento di rivederti. Se credete di aver visto tutto, date un'occhiata. è un piacere lavorare con voi. sulle sette colline gemmate al di là della settima cascata vivevano sette creature dei boschi in una piccola casetta mammolo pisolo totto bruttolo gongolo cucciolo eolo e tutta la magia è per inizio da qui. Walt Disney Pictures è orgogliosa di presentare Biancanei dei sette nani in videocassetta e Disney DVD. Crepate pure di invidia ma noi in questa casa abbiamo tutto. Cibo in abbondanza Coccolo infinito Tranquilla con Team Smart parliamo quanto ci pare. Ma soprattutto la fibra di team. Veloci in famiglia eh? E poi Team Vision prevedere quando vuoi 8000 film, cartoni e serie tv. Solo con Team Smart è tutto. Da 29 euro in 90 e il primo mese è gratis. Perché oggi non parli? Mi tieni il muso? Chiama il 187 o vai nei negozi Team. È il tuo momento. Infiniti Nato. Il protagonista sei tu. Scegli le tue Nato. Carica. Con tutta la tua voglia di vincere. E lancia la tua sfida. Infiniti Nato. Una spirale d'energia. La vittoria si decide in battaglia. Lancia le potentissime Nato Split nell'arena. E sprigiona la loro energia. Si dividono. E raddoppiano la tua potenza. Infiniti Nato. Doppia forza. Doppio divertimento. Giocchi preziosi. A un passo dalla Ville Lumière c'è il magico mondo di Disneyland Parigi. Un carnevale di colori e musica dove le favole e i film prendono vita ogni giorno dell'anno. E incredibili attrazioni tolgono il fiato. Il sogno continua negli spettacolari alberghi dove potrete rimanere nel cuore della magia. C'è così tanto da fare. Così tanto da vedere. Disneyland Parigi. Il regno dove i desideri diventano realtà. Sì. 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 Sì.